L'Istituto Professionale Industria e Artigianato di Sassari aprirà domani i propri laboratori didattici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e 30 per far scoprire a studenti appassionati robotica, meccatronica, domotica e tanto altro. L'originale formula di Open Day tutta dedicata alle nuove tecnologie e relativi sbocchi lavorativi sarà illustrata da docenti e studenti. Inoltre, grazie alla decennale collaborazione con aziende leader nei settori automobilistico e della domotica, l'Istituto ospita ben 19 officine didattiche autorizzate tramite il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Importante è anche la partecipazione a diversi progetti europei. La scuola infatti punta su un pacchetto formativo che consente al diplomato di poter entrare subito nel mondo del lavoro. Abbiamo avuto risultati molto positivi con l'alternanza scuola-lavoro, racconta il dirigente scolastico Paolo Acone, e capita spesso che i ragazzi poi vengano contrattualizzati dalle aziende dove hanno effettuato questa esperienza, soprattutto nel campo delle manutenzioni, dell'impiantistica e della meccatronica. Per questo abbiamo deciso di aprire i nostri laboratori agli studenti, ma anche a chi è semplicemente appassionato di tecnologia. Crediamo che questa scuola sia uno dei patrimoni sconosciuti di Sassari. La scorsa settimana si è svolto un primo Open Day, che ha avuto come protagonista un corso di studi dedicato alla moda. Domani i partecipanti ai laboratori potranno cimentarsi con circuiti, robot e altre diavolerie 4.0.